Ben ritrovati nella nostra ormai consueta rubrica letteraria intitolata Butti Noir del criminologo. Parliamo in questa puntata della più grande inchiesta mai condotta sul narcotraffico tra la Sud America, gli Stati Uniti e l'Italia. Scritta, è una storia realistica questa, poi spiegheremo perché la consiglio, scritta da un bravissimo e alto ufficiale dei Carabinieri, Benedetto Lauretti, che se ne era occupato personalmente. Quindi tracce di grande realismo, tracce di grandi verità scritte in questo bel romanzo intitolato L'Italia dei Narcopadrini per le edizioni del Capricorno. Qui troverete sicuramente intrecci, storie, questioni, il grande racconto sulla più grande inchiesta di narcotraffico mai condotta. E Lauretti è stato un protagonista assoluto perché ha vissuto in prima persona questa inchiesta avendo condotto lui personalmente insieme ai suoi valenti collaboratori l'attività investigativa. Come io ho già suggerito, come ho detto in altre puntate, questo non è un noir, ma se vi cimenterete in questa lettura, si comprenderà come spesso veramente la realtà, la realtà dei fatti, supera di gran lunga in alcuni casi anche la fantasia del più bravo e vincente scrittore di genere. Qui si parla di fatti reali che anche un fantasiosissimo, diciamo così, scrittore di genere difficilmente avrebbe potuto, come dire, mettere in pista. Quindi Benetto Lauretti, che è stato un grande investigatore dell'Arno dei Carabinieri, raccontandoci questa avventura, aiuta anche, intanto sono anche elementi così interessanti dal punto di vista anche giornalistico, ma fa capire come realmente si conduce, si svolge una grande inchiesta e questa è stata la più grande inchiesta su questo tipo di fenomeno. Aveva già scritto Lauretti un bel volumetto, ambientato nella Cioceria, i briganti di Cioceria sempre per l'edizione delle Capricorni, erano indagini su una congiura dimenticata che aveva vinto anche dei premi nel 2016. Invece in questa, in questa sua ultima fatica, ci consegna uno spaccato potentissimo di quella che è la realtà. Quindi non perdete questa lettura, Lauretti è stato un grande investigatore, un alto ufficiale dei Carabinieri, l'Italia dei Narcopadrini, edizione del Capricorno, dove la realtà veramente supera, dicevo, la fantasia. Allora, lo consiglio, perché poi oltre a acquisire informazioni, come dire, e conoscere una storia della vita criminale, diciamo così, avvenuta in Italia, chi poi si cimenterà nella scrittura potrà poi avere veramente altri spunti realistici per avvicinare sempre di più i suoi racconti a quella verosimiglianza che tanto piace ai nostri lettori. Leggere e inserire nel nostro ormai noto e consueto scaffale letterario. Leggere e inserire nel nostro ormai noto e consapevolezza.